A loro, a loro, a loro, perché io ringrazio sempre chi dona il tempo a me e io lo dono a voi, perché non c'è banca che rifonda tempo, è il capitale più grosso nella vita, sapete perché? Perché anche chi non ha niente il tempo ce l'ha. Quindi voi state donando il tempo e io vi ricambio. E vi ringrazio. Allora, benvenuti a tutti, grazie di essere qui, ma grazie soprattutto al maestro Franco Fontana. Che vuole rimanere allievo tutta la vita. Giusto, mi piace molto anche questo contrapunto a una presentazione istituzionale che è necessaria, che faccio con molto piacere, perché questo è il primo degli incontri, l'exio magistralis di fotografia e dintorni, che abbiamo il piacere di organizzare con la collaborazione della triennale di Milano, con cui idealmente ci colleghiamo, perché già un importante ciclo di incontri è stato realizzato a Milano. Proseguiamo qui a Roma con la partecipazione, la collaborazione diretta dell'AFIP, l'Associazione dei fotografi italiani professionisti e del CNA Professioni. È un momento importante per noi del Museo di Architettura, perché nel Maxi Architettura la fotografia e la fotografia di architettura e di paesaggio in particolare riveste un ruolo importante. Noi abbiamo una specifica collezione di fotografia di architettura e qui la nostra responsabile, curatrice Francesca Fabiani, con cui abbiamo condotto una politica soprattutto di committenza, per rispondere anche al ruolo che un museo contemporaneo ha, di stimolare la produzione e non soltanto di accumulare e conservare prodotti e fotografie, in questo caso realizzate per altre occasioni. Quindi abbiamo una collezione che è decisamente una fotografia di quello che noi siamo e, d'altra parte, noi architetti abbiamo da tempo imparato, da qualche decennio imparato quanto è importante per il nostro lavoro, il lavoro dei fotografi che ci hanno insegnato, come Franco Fontana, a guardare oltre le cose, a comprendere lo spazio in cui ci muoviamo e che con la nostra disciplina dovremmo in qualche modo governare. Ringrazio molto Franco Fontana anche per questo titolo, il titolo di questo lezio di oggi, Non esiste quello che vedete, esiste quello che fotografate. È un titolo poetico e perentorio allo stesso tempo, che ci segnala appunto la selezione che fa l'occhio umano quando fotografa un paesaggio desistente, un paesaggio, una selezione quella fotografica che determina una nuova realtà, una realtà che prima non esisteva. E quindi le fotografie di Fontana hanno così accompagnato la comprensione dei paesaggi e di quelle strutture geometriche che li governano e poi i colori. Ricordo, è necessaria una leggera, diciamo, retrospettiva per dire che è molto importante il ruolo di Franco Fontana nella fotografia autoriale, nella fotografia italiana. Penso agli anni 70, quando il lavoro di Franco Fontana ha introdotto il colore, lo ha introdotto con grande vigore in un mondo di autori, di fotografia autoriale che ragionava in bianco e nero. E questo colore così forte, così squidlante, il colore della realtà, insomma, è molto interessante anche quello che Franco Fontana ha detto per spiegare il suo lavoro. È un colore che ci ha segnalato, questa dimensione estetica della fotografia, che ci aiuta a superare, ci ha aiutato a superare una presunta oggettività appunto dello strumento della ricerca fotografica. Insomma, questi sono alcuni temi, ma molti altri ne tratteremo stasera con l'aiuto dei nostri ospiti, che ringrazio anche loro di essere qui. sono Giovanni Gaster, che è il presidente dell'Afip, ed è anche lui un fotografo molto importante, Manuela De Lonardis, storico, critico d'arte e giornalista, e Franco Panzini, che rappresenta l'architettura, architetto e paesaggista. Io mi fermo qui, chiederei ad Antonio Mecca di intervenire un momento per portare appunto i saluti del CNA, che è partner di questa iniziativa, e poi daremo subito la parola a Franco Fontana. Grazie. Siete venuti qui per Franco Fontana e quindi solo in 30 secondi voglio solo dire quanto siamo felici di poter essere qui al Maxi come Afip e come CNA. La CNA con cui Afip ha instaurato un rapporto molto proficuo e con la collaborazione di istituzioni prestigiose come la Triennale, il Maxi, ma prossimamente saremo anche a Napoli, saremo a Reggio Emilia, saremo a Pesaro con queste iniziative. Inizia un percorso che vuole, di questi tempi in cui c'è non solo uso ma anche abuso di fotografia, decodificare questo linguaggio che è quello della comunicazione visiva in modo pertinente così come merita. Io vi porto i saluti dell'intera CNA. Noi siamo stati presentati come CNA professioni, ma io anche a nome di Daniele Vaccarino, Presidente nazionale della CNA, vi porto il suo saluto e spero che questa collaborazione continui in modo proficuo. Buonasera e buona serata a tutti. Allora, prego. Problemi vostri. Io vi leggo, dato che non sono picco della Mirandola, quindi leggo quello che ho scritto perché non me lo posso ricordare tutto. Poi alla giovane età di quattro volte venti. Quello l'ho scritto tutto io. Sì, me l'ha scritto tutto lui, quindi prendetelo con lui. Allora, dico che per me la fotografia non è né un mestiere né una professione, ma è la realtà della mia vita, dopo gli affetti della famiglia e dell'amicizia. È quella scelta che mi dona la qualità perché la vivo con entusiasmo, creatività e rischio, perché il rischio è la vita mentre la sicurezza è la morte. Esprimendomi per quello che penso, testimoniando con gli occhi che vogliono vedere e capire con il pensiero per credere in quello che si vede. Fotografare un atto di conoscenza è possedere. Quello che si fotografa non sono immagini, ma è una riproduzione di noi stessi. Così come quando fotografo un paesaggio è il paesaggio che entra in me e si fa, tra virgolette, l'autoritratto per esistere al meglio, autentificandosi perché esiste solamente quello che si fotografa. Il fotografo si dissolve nelle sue fotografie e diventa lui stesso la fotografia e si annulla sempre davanti al soggetto che fotografa. La fotografia è ciò che facciamo di essa, è quello che fotografiamo, non è quello che vediamo, ma quello che siamo, perché si scopre nel mondo solamente quello che ci portiamo dentro, ma abbiamo bisogno del mondo per scoprirlo e testimoniarlo come vorremmo che fosse. Esiste nel fotografo quell'istinto che precede l'intuizione creativa per esprimere la sua fecondità e donare tutto se stesso in quel momento. Anche in fotografia l'attimo che illumina e concepisce quello che vede è come un colpo di fulmine e la creatività non illustra, non imita, ma interpreta diventando la ricerca della verità ideale. Che cos'è la creatività? Come prima impressione la determinerei una presenza dell'intelligenza, una nota distintiva della personalità fatta di invenzione, emozione, fantasia, avversalità, agilità, un pensiero venturoso che fa pezzo alle regole, a pezzi. A parto nuove esperienze che cerca sempre nuove risposte interpretando il mondo che ci circonda, che è fatto di persone, di paesaggi, di orizzonti, di cieli, di colore e di tante altre variopinte situazioni, testimoniando e interpretando in modo sconvolgente e differente da quel quotidiano ripetitivo che si conosce, assumendosi la responsabilità dei risultati, perché la fotografia creativa non deve riprodurre ma interpretare rendendo visibile l'invisibile. Anche se l'invisibile non è il contrario dell'invisibile, perché anche il visibile ha in sé un vero sottile di invisibile e l'invisibile è la contropartita segreta del visibile. Non avete capito niente? Non ho capito niente. Vabbè, bisogna fare dei discorsi difficili. Non fatemi però domande difficili dopo, perché non vi saprei rispondere. Vabbè, dove sono arrivato? L'invisibile è che lo vuole dare. Citando Otto Stein e la creazione fotografica assoluta nel suo aspetto più libero di luce ad ogni riproduzione della realtà, e perché il colore? Perché bisogna far capire che la creatività con l'aiuto del colore, anche in fotografia, non è sinonimo di creazione arbitraria, ma è un movimento che genera vita e non sofferenza, con valenza positiva per tutti. Il colore ha anche una sensazione fisiologica, interpretazione psicologica e emozionale, modo e mezzo di conoscenza, ed è per questo fondamentale soprattutto nella fotografia. Come diceva Paul Cree, il colore è il luogo dove l'universo e la mente si incontrano. La forma è la chiave dell'esistenza, perché è vero, attraverso la forma si identificano, quello che viviamo. Io cerco di esprimerla in fotografia testimoniandola nello spazio in correlazione con le cose coinvolti in esso, che non è ciò che contiene la cosa, ma è ciò che emerge in relazione alla cosa, che può essere un paesaggio, una persona, un albero, un'automobile, un ambiente, eccetera, eccetera. Tutto ciò che ci circonda può venire ripreso per essere testimoniato con significato. Non si può conoscere l'essenza delle cose se si crede solamente che un fiore sia solo un fiore, che una nuvola è solo una nuvola, che il mare sia solo il mare, che un albero è solo un albero, un paesaggio è solo un paesaggio, che gaster sia solo gaster. Vorrebbe dire che la conoscenza si limita alla superficie senza coscienza, e così in tutti i rapporti umani, senza capire la loro esistenza e nel loro contenuto, limitando la loro verità e identità. Le fonti dell'arte sono l'entusiasmo e l'ispirazione. In una parola, la vitalità è una parte importante dell'immaginazione e quelli che non immaginano amputano la parte creativa del loro pensiero. Perché è più facile ragionare razionalmente che immaginare e creare, ma è solo immaginando che si può fare il giro del mondo in un giorno invece che in 80. Quelli ancorati al ragionamento perdono il loro equilibrio davanti al cambiamento, eppure bisogna cambiare sempre per rimanere quello che si è. Così come la natura insegna, se voi guardate un albero cambia per continuare a sopravvivere, il giorno che non cambia più muore. Per concludere, non è quello che voglio che mi rende felice, ma è ciò che ottengo da quello che la vita mi porta. Oggi mi ha portato voi e io ho portato me a voi. Oggi la vita vi ha portato me e sono contraccambiato felice da voi. Mio Falcone, quando è che hai capito che vedevi il mondo in una maniera un po' diversa dagli altri? Cioè questa distonia che poi è lo stile, non te l'ho mai chiesto questo? Qual è il giorno che hai detto ma io vedo il mondo in maniera un po' diversa da tutti? Ma no, ma ognuno è testimone di quello che si porta dentro. Qualsiasi porto tu? Vado a New York per diventare più furbo, a New York vedi quello che ti porti dentro, non è più o meno. Ognuno vede, cioè è tutto soggettivo, capisci? Certo. Allora, se faccio vedere questa bottiglia è oggettiva perché è una bottiglia per tutti. Sì. Ma l'interpretazione invece... No, certo, è finita. La mia è soggettiva, la mia storia. Uno può dire le foto di Fontana non mi piacciono, no? Pronto di cappello. Come uno che non mi piacciono le pere, il problema di chi è? Della pera, no? No, lo picchiamo ma... È sempre così la cosa, no? Allora, io ci vuole sempre l'umiltà di accostarsi le cose cercando di capirle, capisci? Perché se te parli inglesi non capisco, non dico che sei un baluba che fa dei suoni... Un barbaro. Cioè cerco di parlare e poi ne discutiamo. Sì, capisco. E così bisogna sempre accostarsi con umiltà le cose, no? Per poter crescere, essere aperti, no? Cioè, dato che la porta si apre da lì dentro, rimane inquinato se non l'apri mai, no? Quindi apri la porta e continuo a disinquinarti continuamente. Perché io faccio i corsi di fotografia? Perché andando, tra virgolette, a insegnare, imparo e chi me lo fa fare deve essere. Ma secondo te... Quando fai un corso di fotografia, se chiamano un muratore, costa dieci volte tanto. Si fanno per amore, perché per amore si fa le cose a gratis. Sì, non c'è dubbio. Io sono qui a gratis. Sì, sì, lo so. Per amore, perché mi piace. Però lo stile è in tutti, secondo te o... A cercarlo, ognuno di noi ha una sua diversità. C'è stile in ognuno. Ma sì, ognuno di noi deve editare quello che è, non deve diventare Napoleone, che o lo è o se no va al manicomio pieno di Napoleone, no? La vita ti chiede cosa vuoi diventare. Diventa quello che sei e ti realizzi in funzione di quello che la vita ha dato. Cerca di avere l'umiltà di crescere in funzione, capisci? È come un terreno incolto, dipende da quello che semini. Certo. Siamo tutti dei terreni incolti, non quelli che vengono a fare i corsi di fotografia. Sono dei terroni incolti. Il terreno incolto... Non dei terroni però, dei terreni. Hai detto dei terroni incolti. Deve stare attenti. A me invece piacerebbe sapere quando hai iniziato negli anni Sessanta, che hai iniziato prendendo in affitto una macchina fotografica. E poi, quando è che c'è stata la consapevolezza? Ma è come che... Quando è che uno si innamora di quella lì e non di quella là? Cioè, è l'acqua di sorgente, non è giustificabile niente. Cioè, tu fotografavi, andavi in giro, fotografavi... Ma sì, io lavoravo nel campo dell'arredamento, ma non solo. Io se racconto... Ecco, raccontaci qualcosa di questo passaggio. Ah, non si sente niente? No, no. Vuoi che vi faccia vedere le tue foto? No, 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 no. Le mie foto, quello che vi faccio vedere, 40 anni, 50 anni di esperienza. Non faccio vedere tutto, sennò diventa lungo come via col vento e vi addormentate tutti. Cioè, lascio parte tutta la parte di committenza, i reportage per l'Espresso, per i match. Insomma, cose di committenza professionale, no? Quando dico che per me la vita non è... La fotografia non è una professione, ma una realtà. E qui vi faccio vedere la mia realtà con qualche piccolo episodio. Non so, quando lavoravo per il venerdì di Repubblica mi mandavano a fotografare Pavarotti e andavo a fotografare Pavarotti. Cioè, pagavano e va bene. E' chiaro che quando andavo a fotografare i miei paesaggi ero io, non chiedevo niente. E li facevo perché avevo un'esigenza mia di esprimermi. Poi, come andavo a finire, andavo a finire. Quindi qui c'è una mia verità e poi c'è anche una parte di committenza perché alla fine sono un essere umano con pregi, difetti e tutto il resto. Non mi pare. Sei perfetto, maestro. Sono perfetto. No, per l'amor di Dio. Non esistono i perfetti. Il più grosso difetto è essere perfetti. Chi è perfetto di voi alza la mano. No, e poi se avete finito di parlare vi comincio ad annoiare con le fotografie. Ti voglio... Aspetta, c'era lei che ti aveva fatto da domani. A me piaceva sapere un po' quando hai iniziato, perché hai iniziato comunque in un momento in cui anche la fotografia, insomma, era... La fotografia era in bianco e nero, capisci? In bianco e nero, appunto. Capisci? Il colore era un gelato, una torta, un paradiso. Cioè, il colore, capisci? Perché è più difficile fare colore che bianco e nero? Perché, primo, non si accetta la creatività come la vedi, la devi reinventare. Il bianco e nero parte già inventato, o no? Parte inventato. È un difetto. Se vedo camminare cento persone che camminano tutte bene, uno zoppo, è lo zoppo che noto. Eh? Io dico sempre che il bianco e nero è un difetto. Puoi fare bianco e nero con qualità è come fare difficile il colore con qualità. Gianni Beringo Gardin, che è un grande baresto, un bianco e nero, l'ha detto lui. Fare colore è più difficile. È più difficile per forza, perché il colore è quello che vedi. Quindi devi rinterpretarlo e significarlo in un modo diverso da quello che sei abituato a vederlo. E quando mi dicono, ma un blu così non l'ho mai visto, beh, allora consulati col mio cane. Cioè, non l'ho mai visto, non mi ho inventato io nel blu, nel giallo, nel verde, no? È chiaro che tecnicamente sottespongo o non sottespondo, ma quello non mi interessa niente. Voi non mi dovete chiedere come ho fatto fare le cose. Perché le ho fatte? Perché il significato è perché uno le cose con le fa. Chiedete mai a un pittore che pennello ha usato, o a uno scultore che Martello ha usato? Ecco, tanto la materia prima è a disposizione di tutti. Michelangelo con un pezzo di marmo faceva la gioconda e quell'altro fa un posacenere. Con lo stesso alfabeto, cosa ha scritto la Divina Comedia? Quell'altro fa Milan e Juventus. Cioè, la verità è a disposizione di tutti. Ognuno li interpreta per quello che è, per quello che ha capito. Ci vuole solo l'umiltà di crescere, di crescere, di crescere, di crescere. Non credere di essere, perché alla fine non c'è mai nessuno. Anzi, più divento io, ho la venerabilità, quando mi dico come stai, stavo meglio dopo la guerra, è vero. Perché avevo un po' meno di anni. I tedeschi io li ho visti davvero, non solo al cinema. E allora dico che perché io faccio i corsi in fotografia? Perché io voglio rimanere un maestro. Ma che maestro? Maestro di cosa? Più cresci, più capisci che non sai niente, capisci? Io non voglio diventare un sapiente ignorante. Voglio rimanere un ignorante sapiente. Non avete capito? Dai. Io gioco sempre, gioco sempre, capisci? Io faccio i corsi di fotografia. Capisci? Faccio anche le mostre, quelle di Franco Fontana. E ce ne sarà una Roma alla sala dei Dioscuri in settembre. dei miei allievi. E ai miei allievi, non c'è nessun fontanino. Io non creo dei rappresentanti che vanno in giro a fare quello che so fare io. Ognuno si è il primo per quello che è. Quindi non vengono a perdere tempo. Perché, come ho detto prima, il tempo è il più grosso capitale dell'uomo. E cerco di convivere con loro in una confidenza, perché io non sono il profeta, in una confidenza che alla fine, capisci? Vengo a fare anche i corsi qui alla Luisa Roma. Ma, maestro, ci racconti la barzelletta. Ma la barzelletta cosa vuol dire? Vuol dire che sono uno come loro, le barzellette si raccontano con gli amici, no? Questa confidenza, a parte che bisogna sempre alternare il gioviale al serioso, no? Questo non l'ho detto io, l'ha detto un certo prigno che non giocava nella Juventus. No, perché capisci? No, perché alla fine, capisci? Alla trienale a Milano, alla fine di tutta questa platea strapiena, perché c'è una sala che è il doppio di questa, uno mi ha detto, maestro, la barzelletta. È stato bellissimo. Sì, ma mica perché io racconto le barzellette. La barzelletta è l'alternativa, il gioviale, capisci? Beh, questa non ne ha colpa, poveretto. Beh, vabbè, tutte battute. Niente, allora chi tocca? Sotto con le immagini, maestro. Cominciamo con le immagini. Un'ultima cosa. Un'ultima domanda. In un'intervista che abbiamo fatto nel 2010, mi avevi detto che sono stato sempre molto libero, perché per me la fotografia è un pretesto. Ho fatto di tutto, moda, pubblicità, campagne di ogni tipo, e continuo sempre a dimenticare per rinnovarmi. Io penso che questa sia una chiave estremamente interessante. Perché bisogna continuare a rimuovere? Rimuovere vuol dire crescere, no? Perché la memoria, se io adesso vado in Puglia a fare i paesaggi che voi vedete, non mi interessa più niente, andrei a fare il Franco Fontana. Andrei a copiare quello che so fare, a fare il Fontanino, che le potrebbe andare a fare chiunque, perché una cosa una volta fatta rifarla è facile. E quindi rimuovere vuole dire che la creatività non sta nella memoria, perché la memoria è sapere come ti chiami, dove abiti di casa, che marca è la tua mobile, ma la creatività è una rivoluzione, no? È una rivoluzione che ti disorienta, no? Che devi ricontinuare una volta che si calma tutto quello che hai vissuto per ricostruire, vedere le cose con degli occhi diversi, degli occhi più tuoi, con un'autenticità, capisci che non è quella dell'insegnamento, è quella della coscienza. Perché tutti, la rosa è bella, ti cominciano quando nasce a dire che la rosa è bella e che si attenta a dire che la rosa fa schifo, nessuno, no? C'è, gli interventi, pubblicità, tutto, tutto ti insegnano quello che è bello e quello che è brutto, ma non esiste nel bello e nel brutto, è una, è così, una forma razziale del pensiero, perché io quando faccio fare un esercizio che faccio fotografare i miei allievi, il rifiuto, nel rifiuto c'è una verità che non c'è nel consenso, per forza di cose, perché la loro parte è nascosta della luna, loro si scoprono in una verità, quel terreno incolto, che poi è quella, è che è il segreto della loro fertilità, perché è ancora da coltivare, quello coltivato non l'ha seminato lui, al 90% delle cose è stato seminato, è parte della vita. Non siete d'accordo? Vabbè, lo stesso. Solo una piccola annotazione, non so se funziona, non funziona. Perché senza rinnovamento, senza non c'è rinnovamento, non c'è progresso. Mi sembra interessante, tu hai descritto il processo attraverso cui la vista e la fotografia, sono due cose completamente diverse. Completamente diverse. Mi sembra che questo processo descrive bene la differenza che c'è fra visuale e paesaggio e attraverso la fotografia, nel tuo caso, che la visuale semplice diventa il paesaggio, perché il paesaggio è un elemento di interazione in cui a ciò che vedi si sovrappongono dei significati, ovviamente, che sono quelli propri, sono quelli della propria sensibilità, della propria cultura, della propria storia. Della propria storia, di quello che tu sei, perché il paesaggio sono io, esatto. Non è lui, lui ha il pretesto per identificarmi. Esatto. La fotografia sono i fotografi, capisci? L'albero esiste quando tu lo fotografi. Certo, è un processo di interazione in cui ci sono due soggetti, uno che viene guardato e l'altro che sovrappone il proprio sguardo sull'oggetto che viene percepito. E' come lui, quando fa le foto di moda, è lui. Sì, sì. È un pretesto. No, perché io mi chiedevo... Noi ci raccontiamo per quello che siamo. All'inizio mi chiedevo se le tue fotografie possono essere chiamate fotografie di paesaggio dal momento. Sono fotografie di paesaggio proprio perché, e lo sono fortemente perché c'è questa dose di interpretazione attraverso la propria storia e cultura. forse autoritratti. Sì, sono degli autoritratti. Alla fine sono tutti degli autoritratti. Ma lui racconta a se stesso, in realtà, non racconta quello che vede. Sì, sì. Come quello... Anche tu racconti te stesso, eh? Perché la foto di moda... Le foto le possono fare tutti perché se io do la macchina fotografica alla simia e gli dico spingi, mi fai il ritratto e dici hai visto la simia che mi ha fatto uno bello? Dagli la matita a vedere se te lo fa. Chi l'ha fatta la foto? La macchina fotografica, eh? Bisogna stare molto attenti, non faccia una battuta perché non vuole essere fra i tesi. Vi dico solo una cosa per commentare questo concetto che però è... Attenzione perché è importantissimo. Nella mia vita ho avuto l'occasione di conoscere dei grandi maestri. Attraverso le loro opere, quando li ho conosciuti, li conoscevo già. Cioè loro mi avevano aperto la loro anima. Mi avevano detto io sono questa cosa, no? E in questa meraviglia sta un autore. Non tanto in quello che fa ma in come si racconta, insomma, in quanto ti svela il proprio cuore, la propria debolezza, la propria forza, insomma. Questa cosa qua è meravigliosa degli autori. Franco è questa cosa qui. Io quando ho conosciuto Franco e lo conoscevo perché sono da sempre i più grandi fotografi di tutti i tempi, quando l'ho conosciuto e io lo... no? Sembrava che ci conoscessimo già perché ti conoscevo attraverso le tue opere. Ma perché? Perché mi hai detto la verità di come sei. Perché tu hai l'umiltà che non hanno tutti. Ah. Senza quella non c'è speranza. Sì. Quindi con umiltà guardate quello che vi faccio vedere. Dopo l'immonita. Vai. Vado, dov'è l'apparecchio qua? Ah, bisogna puntare lì. Sì. Ecco questa ce l'ho messa per dire quando facevi concorsi che non ho mai vinto niente nel modo più assoluto. Questo vinse il primo premio l'asinello di bronzo alla lasegna nazionale nel 1963 a Vietri sul mare. Eh, perché io sono stato a FIAF tutte quelle storie lì. Allora cosa si faceva 50 anni fa? I concorsi di fotografia, no? E c'era c'è gente che aveva il medagliere nel cassetto. Ecco queste sono foto degli anni 60. Questo l'ho fatta a Chioggia. No, perché alla fine paesaggio, paesaggio urbano alla fine sono tutti paesaggi, no? C'è il significare come la, tra virgolette, la sezione aurea, la composizione con l'equilibrio fra le cose è quello che identifica i significati di quello che vuoi rappresentare. queste tutte foto 59 e 60. Questa è 67 a Praga. Sempre Praga. Questa qui c'era il Nikon Photo Contest che si vincevano macchine fotografiche nella lua a Tokyo esiste ancora questo concorso. Io mandai questa. Non fu neanche considerata e rimandata indietro. Vabbè, ha fatto non so quante copertine è una delle mie foto più collezionate e ha fatto anche l'annualio del Time Life. Quindi la giuria, quella ti danno il premio o non ti danno il premio è la stessa giuria che ti premia e l'altra ti condanna. Quindi alla fine devi rimanere quello che sei al di là di quello che dico. Sì, beh, questo è sempre 73 fatte a Lido delle Nazioni che sono archetipi poi del mio perché anche quando ho cominciato a fotografare queste cose non ancora il paesaggio però alla fine rimane un paesaggio invece di esserci un campo di grano ci sono delle pitture sulle superfici. Questo è uno dei primi paesaggi questo qui ha fatto il biglietto d'ingresso al metropolitano a Tokyo e hanno fatto una collettiva di 23 fotografi scelti al mondo per i 150 anni della fotografia acquistando le opere e mettendolo in permanenza nel museo e il biglietto d'ingresso lo fecero con questo paesaggio forse gli piaceva più di un altro ma questo non conta e infatti i fotografi che hanno creato negli anni 60 e 70 poi è stato utilizzato anche per tante pubblicità quindi andava benissimo perché la pubblicità è quella che ti manteneva perché chi comprava la fotografia 30 anni fa lo ricoveravano sì ma chi la fotografia mi ricordi in una mostra venne un professore un insegnante all'università vengo con mia moglie sono in vendita e se le compra e le do è venuto con la moglie e la moglie ha detto sono belle ma sono fotografie e questo è il mio lavoro tra virgolette cancellare per eleggere cancellare per eleggere e togliere tutto il superfro per identificare quello che vuoi significare questa è una campagna non so se c'è dei giapponesi non so cosa c'è scritto utilizzata la mia foto per questa storia qui questo è un articolo che fece il Newsweek negli anni 80 che mi fece molto piacere perché non va più vabbè perché non spungono vabbè questa è qui quando dicono ma quella parte nera che parte nera parte nera quando ci sono le nuvole passa la nuvola io ho 4-5 foto di questo paesaggio che non faccio vedere perché non sono lezione di didattica dove la parte gialla è scura la parte verde è chiara questo è il percorso di questa lupa che dura poi un minuto è quella che secondo me è la più significativa questa è sempre un'altra nuvola che passa e quando ci sono sono le nuvole di fontana questa è la copertina della lettura fatta due anni fa sì quella settimanale lì che c'era domenica sul Corriere questa molti l'hanno comprata perché pensavano che fosse mare invece è neve e questa e fa parte della credibilità anche questa non è quello che vedi è quello che capisci che conta questo è un lavoro che ho fatto con Schifano cento tavole io ho mandato la mia foto e lui ha fatto il suo scarabocchio sotto ha fatto meno fatica di me no ma lì io ne avevo mandate centoventi no qui ho perso il treno lui odiava il gallerista non faccio il nome allora cento tavole con cento foto ne ho mandate centoventi al modo che lui se li essi poi mi telefonano fa senti ne ho mandate cento al gallerista e ho tenuto le venti migliori dieci sono tu e a tua disposizione vieni a prendere quanto vuoi non ci sono ma anche queste foto quando le ho fatte non ero mai da solo la materia prima le interpretavo così quell'altro faceva un'altra foto questa è una stagione tipo primavera la foto dopo è lo stesso posto totalmente diverso no non ce l'hanno messa niente no no questa qui beh forse era prima è questa perché ero saltata non l'ho vista vabbè questo è lo stesso posto questo era in agosto dopo che hanno bruciato le stoppie no e questo è quello dopo in primavera questa è l'unica foto di tutto il paesaggio che è americana è fatta a Newtac questa è sempre la Puglia sembra un deserto ma è tutto terreno coltivato Puglia basilicata idem questa queste poi hanno fatto copertine ingegneria ambientale altre storie romanzi dischi mi ricordo Ivan Fussati Ivano Fussati si ha fatto quella lì c'era quella della macchina quella della macchina si ma adesso di Andrea è un libro che è uscito adesso hanno utilizzato una delle mie questa è quella che vi ho dato nella collezione questa sera questa qui ed è venuto anche gratis è venuto sei venuto anche gratis no faccio è venuto anche gratis chiamate un idraulico l'impianto questa quella dopo è lo stesso opposto quando dicono sai l'attimo fuggente l'attimo fuggente anche se fotografate una cosa ferma perché ci torni il giorno dopo l'attimo fuggente è il tuo pensiero quello emozionale che in quel momento lì lo vedi così se ci ritorni perché si rompe la fotografia non la rifai mai più assolutamente non esiste l'attimo fuggente esiste l'attimo fuggente ma in tutte le cose quando non va la macchina divento pazzo quando gli assistenti mi dicono va bene ma tanto la fai fra 5 minuti no ne faccio un'altra fra 5 minuti non quella lì quella lì non tornerà mai più e guardiamo la differenza tra questa e quella di prima è lo stesso opposto lo vedete è pazzesco è pazzesco tutto cambia per rimanere quello che è sei tu che sei diverso ma là sono andato in tutte le stagioni gli anni 70 ero sempre là adesso non mi interessa più come andare a ripetermi questo è Pompidou non sta sul paesaggio non ho tanto uno non mi ricordo neanche ecco questa vedete che costa 4 milioni e 338.500 dollari di Gursky eh quando ho visto questa beh però vabbè la vita è la vita no no ma ma di abba ma no ma queste foto qui ne ho 2000 di questo concetto è evidente perché che differenza c'è con questa fatta 30 anni prima però lui è Gursky è gestito dai banchieri ebrei americani e va bene così ma fa felice poi quando Gursky Gursky c'ha una post produzione nel suo lavoro di giorni e giorni e giorni quello che vedete è quello che immagina e mi va benissimo perché lui la famosa foto del supermercato è creativa al massimo anche se è illustrativa perché il supermercato così non lo si vede l'ha inventato l'ha inventato lui capisci volere bene la vita no vi faccio vedere l'indotto che quando io l'ho fatta non pensavo mica a questo indotto no però il giorno che ti chiedono la foto per fare pubblicità la pagano va bene questa io ce l'ho identica fatta 5 minuti dopo senza le nuvole perché le nuvole non sono mica in posa ad aspettare che tu gli facci il ritratto questa è stata così emozionale fatta c'era anche con me altre persone l'ho fatta io questo è vedi che paesaggio che consiglio tutti di andare da quelle parti perché non c'è niente è un'ossigenata mentale straordinaria giù in Puglia Basilicata è un'area lì di un cinquantina di chilometri di raggio ma indimenticabile e questo è quello che io ho fotografato quando si dice sono foto stratte ma che è stratte l'astrazione esiste in pitture in sculture in tutto quello che volete perché non c'è niente una tela vuota è una tela vuota qualsiasi cosa si ci metta è astratta anche se è figurativa l'astrazione nella fotografia è il pensiero del fotografo perché comunque l'obiettivo registra una realtà o no semplice beh semplice ah questa me la chiese Dario che mi piacciono molto ti faccio un intervento non ci capisci più niente ma vabbè Franco con tanto affetto è quello che io ho registrato non esisteva il computer eh 30 anni fa ma ben venga il computer beh ma ti dà la licenza pittorica mentre la fotografia è legata al cordone umbilicale col soggetto il computer ti dà ti dà ma ben venga sono andati sulla luna facendo i conti con la matita no? beh questa è la stessa foto rappresentata in questa rivista d'architettura questa è fatta a cortina che quella parte di azzurro è stata la pellicola non ho mica deciso io ho preso la dominante dell'azzurro questo è il 78 vabbè questa è la stagione il tempo che passa e cambia continuamente no? questa la feci l'utilizzarono per la campagna dell'Universal Genevi di Orologi che doveva significare il tempo più significativo del tempo di questo questo è sempre quattro alberi con le stagioni differenti il rosso non ce l'ho mica fatta col computer questa è un'accademia di cavalleria ogni vent'anni gli danno la calce per desinfettare quindi il bianco l'hanno messo loro magari io potessi fare come Antonioni in un paesaggio urbano fatemi quella casa di verde quella lì lo posso fare col computer adesso e perché no? cosa cambia? il computer c'è il tasto per diventare Michelangelo? no? rimane un coglione se lo sei questo vedete io ero su un ascensore nel 1970 a Baia delle Zagare eravamo in quattro purtroppo gli altri tre non ci sono più vabbè ero l'unico superstito che eravamo in ascensore e allora là sopra perché c'è questo hotel a 5 stelle che si scende e a 50 metri sulla spiaggia si va in spiaggia solo con l'ascensore io dall'alto dall'ascensore ho fatto questa quell'altra ho fatto la donna in bikini quell'altra in faraglione la materia prima era a disposizione di tutti io quando Picasso dice non dovete andare a cercare dovete andare a trovare trovare e vedere vuol dire che sai già hai già maturato dentro quello che sei perché la meta non è davanti la meta siamo noi cosa vai a cercare devi trovare te stesso e l'hanno detto vedi i francesi l'hanno utilizzato il ministero della cultura francese sapete i francesi hanno le donne più belle il pane più buono i romanzi più vari sono un po' così però quando ti danno un riconoscimento hai più soddisfazione dei francesi che nella patria vedi per l'associazione per la diffusione del pensiero francese quindi questo non è un paesaggio che illustra è un archetipo io vi dico l'ho fatto a Baglia del Dario potremmo dire l'ho fatto a Tokyo l'ho fatto nel Mar del Giappone non cambia niente non illustra esprime beh questi erano i mari ho fatto negli anni 70-75 queste storie di mari i miei mari a colori sono uguali a quelli di Sugimoto fatti vent'anni dopo i suoi costano 50.000 dollari i miei non lo dico perché si sono uguali identici a colori ma l'hanno citato tanti critici fossi stato giapponese no ma non è che Sugimoto ha copiato li ha codificati in un altro modo è fine ma per l'amore di mio sarei uno semo pensare che lui li abbia copiati magari è stata una suggestione che era ispirata un'occhiatina alla data sì un'occhiatina allora questo vedete era la nuvola che copriva il sole quindi è illuminata quella parte all'orizzonte buia la seconda e anche qui è un caso il caso il caso quando uno lo capisce diventa un fatto io dico sempre agli allievi tenete presente del caso perché è una verità dell'incoscienza che poi diventa coscienza quando lo capite questi sono i mari e questo è è un orizzonte ha fatto comacchio che per me questa qui quando la Giuliana si ve alla fine del secolo scelse la foto da salvare scelse questa e per me ha fatto molto piacere questa per me filosoficamente parlando è come il cerchio dove c'è un inizio e una fine Giuliana si ve la Giuliana il Corriere pubblicò come per lei la scelta era sua un'altra non c'è di un'altra e va bene così ma però io se la proiettassi rovesciata nessuno se ne accorge tra virgolette dove c'è un inizio e una fine circolare dove c'è ma senza sapere dove sono perché il cerchio che è l'esempio più razionale che esiste al mondo più razionale del cerchio non c'è niente però la parte così creativa stratta e filosofica è che esiste un inizio e una fine ma nessuno sa e non saprà mai dove inizia la fine del cerchio ah questo il lavoro sulle ombre questa quando l'ho fatta l'ho fatta perché pensando a Helmut Schmidt il cancelliere tedesco che ha fatto la copertina del suo libro no non so neanche cosa si è scritto lì sopra ecco per esempio nella gestione delle ombre questa è mia moglie che l'ho messa lì ma questo non vuol dire no non vuol dire perché cosa stavo lì tre ore aspettando che una si sedesse no ma scusa no ma perché il cinema il cinema che è la settima arte non è tutto preparato ma cosa c'entra io non faccio il riposo non vado a fotografare diciamo i dipendenti che lo sciopero è un altro lavoro nella vita e mica lì a documentare niente ecco questa anche qui ci ho messo mia moglie se no ero ancora a aspettare che una passasse eppure questa foto qui l'ho utilizzata nel programma lì a Grenoble del teatro questa adesso l'hanno Fabrizio De Andrè per questa copertina è un destino ridicolo ma per dire io non ho mica il funzione non so perché hanno scelto questa qui però l'hanno scelta anche questa quando io l'ho fatta non ho mica pensato che un giorno avrebbe fatto non so a parte la copertina del British Union la campagna della Suissere 20 anni dopo mi sono messo lì con mia moglie mi hanno fotografato ci siamo fotografati questo sono io che mi proietto è un lavoro che ho fatto in Kuwait perché sono stato chiamato dagli arabi negli anni 79-80 pagavano bene questa pubblicità della Fusicron mai usata Fusicron nella mia vita uno crede in quello che vede perché se fosse stata fatta con la Kodak c'era uno che si alzava e fa oh non è Kodak è come quando proietti voglio vedere quello che mi distingue queste Laika e queste Canoma sono riuscito a fare una campagna della Kodak con la Polaroid ma è normale io ho fatto i calendari dell'acqua con tutte le diapositive della Kodak questo è il paesaggio urbano 79-80 e questo paesaggio urbano l'ho trovato in America ma l'ho trovato là perché non lo potevo trovare a Firenze o a Roma è chiaro a Roma trovo il Colosseo molto più importante ma quel tipo di paesaggio lì che l'avevo dentro di me lo potevo trovare solo in quel posto e quando sono arrivato là era come invitare una oca a bere ma sono tornato diversi anni l'ultima volta sono andato nel 2008 perché avevo una mostra a San Francisco per vedere tornare su quei posti per vedere di rinnovarmi di niente 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 non ho trovato più niente magari questa parete non è bianca in mezzo a diroccata e allora niente si era concluso questa è mia ispirazione perché dico fate sempre cantare l'ispirazione ma quando non canta più si chiude se non puoi provocare niente queste cose che vengono qui anche qui eravamo in tre a Fenix io l'ho fotografata gli altri due con me non gliene fregato assolutamente niente e questa l'Agnès Vardal la scelse per la televisione francese facendola esprimere da un musicista il musicista ha scritto sotto che sembrava una cosa morta come si coprono le cose morte e poi aveva un'energia latente che di colpo partiva sfondava il muro e se ne andava e facevano criticare le fotografie ma i critici perché il critico molte volte parla in funzione di quello che vuol dimostrare lui e qui lo facevano fotografare dai passanti infatti le 100 foto del secolo i francesi mi sono fuori lì al Giardino di Lussemburgo 3-4 anni fa non so e loro se essero questa poi di italiani c'era Berengo Gardin Ferdinando Cian Giacomelli insomma c'erano anche altre vedete questa io ho fatto i franco bolli fermabuste per divertimento questa viene dalla Camera dei Deputati vedete le ho da tutto il mondo Cuba mi sono divertito per degli anni i miei amici viaggiano sono arrivati sempre mai pagato una multa vedi Singapore mi sono divertito la vita è breve bisogna giocarci sempre rimanere bambini guai che perdi il cuore del bambino questo ho fatto a Ibiza al Village Mediterraneo sì Los Angeles per esempio quando ho cambiato la foto con Newman il grande ritratista ha scelto questa delle mie e qui è 79 80 questa è una parete un burale quindi sembra tutta una storia così è un gioco così di Trondale sono paesaggi sono paesaggi New York Los Angeles siamo America questo è un telone di una par che copre la giosta e questo l'ho fatto quando sono ritornato a San Francisco ma sono come quelle di fatti vent'anni prima quindi non c'è non c'è rinnovamento quando si chiude un capitolo bisogna lasciare perdere capisci girare il foglio è inutile tornare e riscrivere quello che sai già scrivere questa è sempre del 79 allora un'agenzia di Stoccarda mi chiese di fare una campagna per la Mercedes perché aveva visto i miei paesaggi urbani americani pubblicati e cioè dato che però la campagna era fatta con lastre non con i 35 mm allora io ero l'art director seglievi i posti seglievo tutta la cena poi c'era un famoso fotografo tedesco con le lastre che faceva t insomma per un motivo o per l'altro non ci sono andato loro sono andati nello stesso posto a fare la fotografia ma non hanno capito niente non tanto niente non c'era bisogno di andare a Los Angeles niente non hanno capito niente questa è la mia foto esaurita nel collezionismo completamente esaurita in tutti i formati e di questa io ho mandato l'originale la copia dell'originale un kodachrome a Italo Zagner perché sta facendo un libro con gli originali perché nessuno discuta che così esiste l'originale capisci perché il computer questo non l'ha mica fatta l'ha fatta io sì ma magari potessi più durare come mi pare ma con il computer oggi la potrei fare senza problemi questo è un periodo così a parte chiuso fatto sulle autostrade negli anni 70 no che 70 80 90 80 questo me l'ha comprata la Sonament una delle più grosse galleriste del mondo no e guardando il portfoglio per fare la scelta mi ha guardato e mi ha detto ma perché lei non ha fatto il pittore perché mi ha mandato ai saresiani non hanno capito niente in casa mia questo è un lavoro sugli asfalti ma è sempre un paesaggio è chiaro gli asfalti c'erano anche quando io non li facevo poi una volta trovati vedevo asfalti dappertutto poi si è chiusa per forza quando io mando in giro i miei allievi a fotografare il rosso prima lo vanno a cercare quando l'hanno trovato dopo 15 foto vedo il rosso dappertutto e questa è la metafora asfalti io ho fatto anche il nudo perché ho colato 360 gradi la fotografia allora il nudo vedete questa foto qui è panorama questa è esposta al museo d'Orsay a Parigi la posso andare a vedere i bambini appena nati quelli di 5 anni di 10 anni quello di Courbet la nascita del mondo però se io stasera vi faccio proiettarsi una foto foto uguale identica che fontana che pornografo che è quel fotografo ma per forza in fotografia eh perché quando dico che la foto la mia sarebbe una verità questa è una verità immaginata perché è pittura e quindi la strazione c'è sempre comunque questo è sul Duomo di Modena che non è una casa di tolleranza il Duomo di Modena è l'ermafrodita questa è la macca desnuda bella fiocca nuda come mamma l'ha fatta una fotografia così non l'esporano mai non l'esporano mai perché rappresenta una realtà questa non è mai una realtà è sempre mediata è sempre inventata per quella per quella si può esporre e questo è il lavoro che ho fatto sulle piscine i miei nudi non hanno a parte la piscina che è stato pubblicato un po' dappertutto non hanno mai avuto tante storie no? perché? perché ero nudi dove io ho sempre rispettato il corpo della donna che è un paesaggio sinuoso fertile no? io non fotografavo le bottiglie che andavano in certi posti come fanno certi fotografi che sono più da edicola che è da museo eh sì cosa c'è di volgare qui eh se uno trova del volgare qui è perché il volgare è lui perché c'è è tutto dentro di noi è quello che vediamo no? non è che io posso dire questa bottiglia è pornografo perché mi rappresento un fallo beh cazzi tuoi perché questa è una bottiglia e questo è un famoso caricaturista francese quando fece il libro della piscina ha fatto questa vignetta e poi no e questa l'ha fatta Altan Altan no? Oddio il Fontana ma si vede bene lì sì questa è l'edizione giapponese beh questa è una copertina francese di magazine foto magazine questa è fatta questi sono i nudi al di là della piscina questo è interessante così con il fatto che c'è tridimensionale no? il corpo davanti il corpo di dietro e quello che è interessante per me è il graffito sul murales e poi l'hanno utilizzata la Canon per fare questa pubblicità vabbè questo è un disco lì che hanno fatto in giapponesi ecco vedete il corpo è pulito non c'è nessuna immaginazione pornografo questa è è fatta a San Gagano lì alla chiesa sconsacrata gotica no? e questa c'era questa ombra gotica qui era durante un corso di nudo di fotografia c'erano inventi di dieta a fotografare uno ha vinto non so quanti concorsi con questa foto ma non l'ha mica fatta lui e come fotografare la gioconda c'è vabbè io questi sono ecco faccio vedere questa perché adesso uno dei miei ultimi lavori che sarà esposto a Palazzo Ducale a Genova che ho fatto sul cimitero di Staglieno che è un capolavoro dell'umanità riconosciuto dell'UNESCO allora io sono andato a questo cimitero su comittenza che mi interessasse molto andare a vedere i trapassati comunque ho accettato e ho girato due giorni finché un giorno sotto una galleria ho trovato quelle cose che ho fatto dal vivo questi corpi con i teli bagnati e l'abbiamo chiamato vita nova e adesso c'è questa esposizione fatta con questa scoperta di questa sensualità in questi bassorilievi che sono straordinari per me e che speriamo che il buon cielo adesso vediamo questo potrebbe essere pubblicato da Playboy invece in un cimitero questi sono gli uvedi la Repubblica fece una pagina storie dell'altro mondo Franco Fontana ha trovato un amore Spon River lì a Stalieno poi ho fatto un lavoro sulla gente sempre per collaudare continuare a rischiare continuare a vivere nel rischio dare significati alla vita cambiando per non rimanere quello che sei anche per non cambiare per non diventare un altro e questi sono dell'82 83 no? e che io l'avevo chiamata solitudine di gruppo perché vedevo questa perché in America ho trovato questa solitudine vedevi 20 persone davanti aspettavano l'auto nessuno si rivolgeva la parola come se fossero tutti dei muti e questo è stato fatto un libro sorpresi nella luce americana e questo qui per dare questo diciamo iperrealismo all'immagine l'ho un po' elaborata al computer perché con la macchina fotografica non veniva e quindi per volerlo come volevi no lo dico per onestà e va bene così qui il soldato ce n'era un altro mi rompeva le balle e l'ho fatto altro perché la fa sì come un pittore no? perché no? cosa succede? non succede niente e l'opera che cosa? la fine e il perché l'hai fatto? mica la verità queste sono dirette un po' cioè diciamo rendendo più iperrealisti cioè rendendo maggior contrasto sul protagonista che è la figura e questo è l'ultimo lavoro sui disabili quindi disabili non è andare a fotografare mi si taglia è una cosa un po' diversa e adesso uscirà il libro che verrà presentato alla fiera del libro a Torino in maggio e mi sono presentato al mattino lì che non ho dormito perché cosa vado a fotografare perché quando ti danno una committenza c'hai tutti il maestro il maestro risolve tutto lo fa diventare di un coccio un'anfora no siamo tutti fatti con la stessa creta come dicono i messicani ma un coccio non diventerà mai un'anfora e quindi però quando vengono da te ti danno l'incarico ti aspettano che tu risolva tutto no? il maestro il maestro c'è saluto beh vabbè allora quel mattino lì a Palazzo Madama vado là mi trovo 20 in carrozzina bello beh insomma poi sono andato diverse volte e qui c'è qualche immagine che sembrano tutti gestiti come dei tableaux vivants cioè una scenografia ma ho fatto tante foto per arrivare a scegliere quelle 30-35 foto che saranno sul libro sono tutti cioè c'è di quelli in carrozzina ma anche quelli che vedete normalmente in piedi sono disabili anche loro ah e poi queste sono le comittenze per divertirsi no? lui era un mio grande amico io lo conoscevo che era come me 50 chili quando avevamo 20 anni e poi era diventato 180 Pavarotti con lui ho parlato solo ed esclusivamente in dialetto solo e sempre in dialetto qui mi ha detto lo dico in italiano perché qui il dialetto modenese non si capisce ma beh ha detto ma hai fatto bene però mi hai fatto troppe rughe questo è come si chiama lì l'ottilista lì Valentino Valentino vede che fa le corna ogni foto che gli dovevo fare voleva la Polaroid poi la faceva vedere al biondo col cagnolino in mano diceva sì bella bella la foto vai se già metti non approva Valentino non approva questa è una delle più belle donne te ne hai fotografate molto più di me questa è l'Anna Ox per me è una delle più belle donne che ho fotografato tutti i servizi per il Venedino Repubblica questa dal vero non è come la vedete perché lui sta bene dal vero qui sembra Rita Eivor però non voglio dire che si umilia di più dal vero questa è la Barbara Hendrix la cantella soprano nera che ha fatto la Bohème con Comencini e questa l'ho fotografata al teatro alla Fenice prima che la bruciassero tutte foto anche queste di vent'anni fa ah questo era il premio Nobel lì la Rita Levi che quando si è messa lì seduta no? vedete con tutte le calze ricamate come una ventenne che non è mai stata bella neanche vent'anni questa qui comunque aveva una bellezza che era quella del cuore dell'intelligenza che è più importante di quella del viso perché quella non tramonta invece cosa bella e mortale passa non dura come al Giro Petrarca allora mi ha detto io metto su il flash ma mi fa le foto col flash e se no è buio qui era l'85 no l'85 capisci a casa sua a Roma quando vissi il Nobel aveva 85 anni lei allora mi ha detto no ha fame ha detto se no lei non viene fa ma vengono le rughe ha vengono le rughe lei non ha vinto il totocaccio lei ha vinto il premio Nobel invece gli è benvenuta bene allora ha detto ha ragione invece gli hai dato una piallata no ma vengono le rughe il premio Nobel ho 85 anni mi dico lei mi ha fatto bene ma ho troppi pochi capelli non me l'hai detto non te l'ho detto cosa mi avessi risposto ad faccumate ad faccumate in dialetto questo è Anthony Quinn uno dei personaggi più carismatici e straordinari che ho conosciuto fotografando questi personaggi questa è la Daniela Poggi qui a Roma l'ho fatta qualche qua vent'anni fa si guarda tutto tranne Roma in questa cosa questo è Claude Picasso che non ha problemi perché ogni tanto vedo un quadro del papà questo è sì beh Dario Fon questo Dio me l'ha dato è guai che me la tocca anche qui è stata tutta un'avventura ma è troppo tardi faccio tempo a spiegarvi tutto questo è Altman questo è Dario Dario facciamo per meno bene per meno bene ma come hai fatto così si sei una miscela tra Napoleone e Mephistopheles se non capisci cazzi tuoi no questo è divertente perché no quando è venuta lì la rega allora io avevo l'incarico attraverso il comune di Venezia di fargli una serie di ritratti per la casa bianca quindi le hanno fatte lì nel cortile di Palazzo Reale io ero dentro nel cortile con la fotografa della casa bianca e fuori dietro una trascenna su una specie di pedana tutti fotografi con i teli non sono riuscito a fare niente di fatti l'americana mi ha detto vedai non si può fotografare perché c'è il servizio di sicurezza ogni volta che alzi sono lì che ti prendono l'unica volta che mi è passata davanti dall'altra parte del tavolo tac ho fatto questo di tantaneo e poi gli ho fatto un fotomontaggio con le forbici ho tagliato le forbici no ho messo le foto sulle foto di Venezia ci manca solo buon Natale ed è la propria sì e allora gli hanno fatte dieci mandate la casa bianca ho la lettera di Reagan di ringraziamenti e hanno chiesto un'altra tiratura due volte e beh a queste Albertazzi con due durante tenevo un corso in uso due nobildonne due nobildonne questo è Manfredi ha avuto un rapporto simpaticissimo con Manfredi perché ma come fai metterli in mutande hai fatto quello che io gli dico e vabbè gli chiedo più che gli dico l'Ornella Vanoni beh insomma l'ho fatta la Niki di Sanfal cinque stelle cinque stelle facevano le gare sulle bartellette questo è un lavoro di Cristo perché ho fatto un lavoro per la Udieter un foundation per i bambini ognuno aveva interpretato una scarpa della Ferragamo faceva le scarpe per lei gli ha dato a dieci artisti la come si chiama l'impronta della scarpa e ognuno questo Cristo l'ha interpretata così e era legata a un film questo era Guerra e Pace poi le ho fatte dieci questi lavori che ho fatto per Vogue America perché mi ha chiesto loro di lavorare per loro e va bene sono venuto ho lavorato quattro anni poi dovevo fare un contratto fisso mi cambiava la vita e d'altro volevo rimanere un cane sciolto questa è la Frescobaldi sempre sempre lì al museo Capitolino qua a Roma che quando gli feci la foto facendola montare la statua di Venere del Tevere romano originale arrivato lì il guardiano ma cosa fate ma siete i pazienti chiamo la polizia bisogna dargli qualcosa questo qui ma cosa gli diamo 200 dollari ti ha dato 200 dollari fate quello che volete queste le pelicce artificiali di recovery questo nel porto di Tokyo per i corsi in Shato se il porto di Tokyo ma sì sono stati passaggi della mia vita bisogna sempre avere il collaggio di collaudarsi più esperienze fai negative e positive più riesci a conoscere quello che sei perché il conosci te stesso che l'ha andato 3 o 4 mila anni fa è la cosa più difficile il primo ostacolo della vita siamo noi e questo è il fondo di schiena per la Levis sul cratere dell'Etna questa è per una banca tedesca che diceva che le banche strozzano i clienti insomma l'ho interpretata così questa è una delle ultime che ho fatto per Hermès l'Air de Paris questo è un calendario sulla 66 americana questo è un calendario che ho fatto nel Kuwait con la grafica di Alan Fletcher che era uno dei più grandi grafici del mondo questo per l'Italia 82 vedi che anni erano ero un bambino la Fiat ho fatto tante campagne la Piaggio la Ferrovie dello Stato copertine qui mai usato la Minolta ma va bene la Somme Deutz per i trattori per la Ferrari questa la faccio vedere anche in secondo luogo perché questa è dell'86 il cane era lì era arrivato per caso con dei ragazzi sì no tutti ci hanno messo il cane di ceramica ma si preoccupano come ha fatto fare la foto ma capisci ma chi te l'ha data vabbè e allora faccio vedere quella col cane che non è di ceramica vedete perché ha girato mezz'ora lì intorno prima di mettersi in posse andava bene solo lui perché come la scogliera un bassotto non andava bene un lupo non andava bene e l'ho fatta Ferrari ne ha firmate solo 50 abbiamo fatte mille copie numerate ma però lui le ha firmate solo 50 Stasi un wagon insomma ne ho fatte la Volkswagen quella lì questi qui per esempio non pagavano noi diamo gli olorogi ho preso il più caro che avevano tutto è meglio nel peggio della vita questo è per un questi tutti grandi che è già di tutti i grossi personaggi che hanno saluto questa per fare il loro questo ho preso delle bottiglie in cambio questa è divertente perché l'art pull la vi del centro pompiduo ha fatto quest'asta e nel retro c'era una polaroid in questo caso era mia ma l'importante è che ci fosse una polaroid capisci una fotografia questo Fontanos mi piaceva ma non mi hanno cambiato il nome in Italia beh questi manifesti dimostri fatti in giro un po' per il mondo ah questo io avevo un agente americano un po' coglione comunque era il nipote di Malendietric sua madre era la Maria la figlia l'unica figlia che aveva Malendietric la chiamava sempre la nonna la nonna che due palle con sta nonna fammi mandare una foto firmata della nonna un bel giorno mi è arrivata per Franco Malendietric non era poi quella aveva già 90 anni allora ah questo è il manifesto dei miei allievi dei miei sono loro i maestri sono loro io sono là come loro siete di Roma il 13 di settembre potrete vedere le loro opere al Quirinale nella sala dei Dioscuri e allora e ognuno di loro si rappresenta per quello che è non c'è nessun fontanino per favore perché il mio corso di fotografia è un corso di autofecondazione quando c'è delle belle figliole fa vorrei fecondarvi anch'io ma sempre per giocare sulla vita vabbè questo è un articolo di una rivista tedesca questa un grande fotografo vede Pedro Meyer uno dei più grossi fotografi messicani mi ha fatto la tomba ho chiesto il preventivo è troppo caro e quindi mi farò cremare niente questa è una frase che ho scritto per ArtBase che l'avevo chiesto ognuno l'hanno pubblicata utilizzata due volte si vede che gli era piaciuta e questa è la grande verità perché è la metafisica che va al di là di quello che si conosce questa è quella lì che ripetiamo questo vabbè si riparte vabbè grazie a voi grazie 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 pubblicati Non vi siete annoiate, questo è importante. Volete la barzelletta? Sì. Sì? Sì, maestro. Allora c'è questo che sta morendo. Sta morendo è proprio alla fine. Rantola, rantola. Chiamo Giovanna, Giovanna la moglie. Giovanna dimmi te. Allora sappi che non ti sostituirei che non sei un'altra donna al mondo. 50 anni di vita, d'amore, di viaggi. Insomma straordinaria, irripetibile, irripetibile, irripetibile. Però voglio chiudere a 360 gradi questa vita straordinaria. Quindi ti faccio una domanda e tu mi devi rispondere con totale sincerità. Ma figurati, figurati, Giorgio, dimmi, dimmi cosa dici. Dimmi, ti rispondo, fai presto perché mi hai mai tradito? E la guarda, la guarda, ci penso un po' fa. E se non muori? Un maestro! Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Non so se i nostri relatori vogliono dire qualche cosa. Volete chiudere? Volete chiudere? Come vuoi, possiamo fare due domande? Le facciamo? Le faccio. Le faccio. Abbiamo ancora... lavorare sulle foto originali di Felice Beato, dell'Ottocento, che ha fatto grandi foto di paesaggio. Sì, sì, lo so, lo so. Conosco Beato. Allora, prendo da lui uno spunto, perché mi sembra che manchino due cose che caratterizzavano in passato la fotografia di paesaggio. Una è la presenza di panorami. Eh. Beato non aveva Photoshop. Ah, no? L'avrebbe tanto amato. No, ma quelle che avete visto non avevo neanche io, magari. Beato fa delle straordinarie fotografie che si dispiegano, fatte anche con sei scatti diversi, fatti negli anni 60-70 dell'Ottocento. Non so come facesse, riusciva a ricomporre in un'immagine un'Italia. E il panorama faceva in passato parte della fotografia di paesaggio. E la seconda questione che ti pongo è questa. Nei tuoi paesaggi naturali, che non sono naturali, sono tutti costruiti dall'uomo, tu quasi non hai... Sì, sì, non sono naturali. No, non sono vergini, sono tutti coltivati. Esatto, sono tutti fatti, costruiti. Non c'è mai l'uomo. No, c'è la presenza a scienza. C'è l'assenza, c'è questa assenza. Quando una volta, invece, quando si faceva la fotografia di paesaggio, si metteva, si introducevano sempre delle figure umane che davano la dimensione della grandiosità della scena. Sì, sì, il rapporto tra il piccolo e il grande. Ecco, non sei... quindi non hai panorami, perché diaframmi in qualche maniera, cioè scegli un quadro... Per me il personaggio lì non è il contadino che lavora la terra, quello sarebbe, diciamo, un documento, diciamo, c'è la terra lavorata, la presenza dell'uomo c'è nelle coltivazioni e c'è così, questo immaginario così, un po' metafisico, fuori dalla rappresentazione, diciamo, illustrativa, ma andiamo su più una rappresentazione di pensiero. Ecco, cioè per me è pui... Posso fare una seconda notazione? Perché non ci metti le persone? No, 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 era solo... volevo conferma. No, no, c'è chi mi ha detto, ma perché non ci mette mai un contadino? Perché ce lo metterai tu quando le fai tu, così ti lascio il porto, ti lascio spazio. Posso? Velocissimo. Hai più volte citato il fatto che tu avresti, diciamo la verità, potuto fare il pittore perché tu hai un senso compositivo e cromatico, hai fatto il fotografo, ma insomma, ti approccia la fotografia con un atteggiamento analogo a quello dell'artista. Le memorie culturali della pittura, per forza, ma... Il che non vuol dire... Cioè, bisogna sempre avere coscienza di quello che è stato, no? Sì, sì. E poi avere coscienza che è la cosa più incomprensibile della vita, che conta di più quello che non vedi che quello che vedi, eh? Sì, certo. Perché quando vai a vedere una quercia millenaria, la vedi, vive ed è nata e si esprime in funzione di quello che non c'è, che è la tua coscienza, la radice, se lo trovi le tue radici, dove vai? E hai citato un altro celebre fotografo di paesaggio, Giacomelli, che certo usava il bianco e nero, ma era un bianco e nero così pieno di inchiostro. Lui non aveva il computer, ma aveva la licenza lo stesso, no? Perché lui, con i pennarelli, caricava i neri, eh? E infatti anche lui aveva un atteggiamento d'artista, da incisore, no? Sì, aveva un atteggiamento anche lui, tra virgolette, se vuoi, pittorico, no? Esatto, esatto. Allora, no, volevo semplicemente sapere questo, visto che tu hai frequentato gli Stati Uniti, dove c'è invece, vedendo la tua opera o quella di Giacomelli, c'è una scuola italiana, se posso usare questo termine, che ha un'attenzione, ha un'attenzione, come dire, ha una sorta di derivazione, ha un'attenzione verso l'arte, ha una derivazione dall'arte pittorica? Sì, sì. Perché, ad esempio, la fotografia di paesaggio statunitense, mi sembra invece caratterizzata da un'attenzione ai paesaggi alterati, all'alterazione che l'uomo con... Cioè, Ansel Adams, uno dei grandi paesaggisti americani, no? Sì, sì, sì. È un illustratore, un grandissimo illustratore, con una calligrafia straordinaria, no? Comunque è la cifra... Abbiamo un patrimonio che ci portiamo dietro e anche un rimorchio delle volte, un pesante rimorchio, perché viviamo di rendita. Ecco, a proposito di radici e di la città Modena, quanto entra la tua città nella tua visione? Ah no, la mia città, sono nato lì, ci sono rimasto, ho donato una collezione straordinaria a Modena, no? Perché i cambi che ho fatto con i vari fotografi, con lui, con tutti, quelli che ho conosciuto, non da Cartier-Bresson, da come cambiare figurine e poi un dato minuto l'ho donata alla città di Modena 15 anni fa a nome di tutti i fotografi. Più di 700 immagini, ma c'è i più bei nomi della fotografia di quegli anni. E beh, sono rimasto lì perché c'ho la radice, cosa vado a fare in giro? Quando io mi trovo gli amici, mi trovo il quotidiano, mi trovo le cose, piccole cose della vita, che sono quelle che ti identifichino per quello che sei. Potevo andare a vivere a New York, a Chicago, a Tokyo, a Ferro. Tu devi rimanere quello che sei. Non devi, se avessi fatto niente, i rimpianti io non ne ho. Sotto tutti i punti di vista. Almeno potete dire, ma che tipo era Fontana? Era un tipo divertente, fine, io ho già avuto l'ora. Io mi sono trovato così con gli amici, ho sentito che ci siete, che siamo vicini, capisci? Io sono quello lì, uno conta per uno, io conto per uno e ognuno di voi conta per uno. E ci siamo trovati a dividere il tempo, e io sono felice di essere stato qui e di non aver perso il tempo. Bene, grazie a Franco Fontana, grazie di cuore per questo bellissimo dono che ha fatto al Maxi. Io vi ricordo il prossimo appuntamento di questo ciclo di Lectio Magistralis di fotografia e dintorni. L'appuntamento è per il 15 aprile con Donata Pizzi. E Donata Pizzi è stata una mia allieva nel 1981 a Palazzo Fortuni. Motivo in più per ritornare qui al Maxi. Grazie.